Palazzo Amici a Macerata cambia nome e diventa Palazzo della Conciliazione, un battesimo dovuto visto il nuovo organismo ospitato nella storica sede dell'Ordine dei Commercialisti che recependo il Decreto Legislativo 28 del 2010 ha dato vita all'Istituto di Mediazione ADR e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino. Applicare quello che la legge ha chiesto agli ordini e cioè intervenire nella giustizia con professionalità, preparazione e quindi assicurare una giustizia rapida, celere, equilibrata con il rispetto dei diritti delle parti e in tempi certi. Entro al massimo 4 mesi determinate controversie civili e commerciali potranno essere devolute a questi organismi di mediazione. Come hanno preso i commercialisti di Macerata questa nuova iniziativa e questa volontà di dirimere le controversie? Molto bene perché la nostra professionalità si presta in maniera particolare alla composizione delle controversie per la nostra natura di trovare sempre un giusto equilibrio tra le esigenze delle parti. Poi abbiamo organizzato dei corsi di formazione con i colleghi che si sono preparati, hanno fatto dei corsi ad hoc e hanno ottenuto l'abilitazione a questa attività di mediazione essendo iscritti già da tempo nel registro appositamente tenuto dal Ministro di Giustizia. Devo dire che questo sarà un ausilio che l'ordine darà alla giustizia, al sistema Italia perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono 6 milioni di cause arretrate e quindi noi con questo meccanismo di mediazione interveniamo in ausilio di questa importante funzione e quindi anche nelle liti commerciali poter avere una composizione equa, giusta e in un tempo ragionevole non fa altro che andare a beneficio di quello che è il tessuto nostro imprenditoriale del territorio. In termini di cifre quanto è utile questo organismo in provincia di Macerata? Direi che è utilissimo perché se consideriamo che il Tribunale di Macerata e di Camerino, che abbiamo due tribunali di circoscrizione della nostra provincia sono in qualche maniera interessati da organici da completare, situazioni di arretrato, io credo e siamo perfettamente convinti che il nostro ruolo sarà oltremente valorizzato perché queste tipologie di controversie saranno devolute a questi organismi di mediazione. Per mediazione quindi si intende l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole tra due o più soggetti per la composizione di una controversia. Un compito estremamente delicato che solo la competenza e la riservatezza di chi fa della professione una missione di vita possono garantire. Noi crediamo molto in questo istituto perché nell'attività quotidiana spesso svolgiamo funzioni di mediatori. Mi riferisco ad esempio quando partecipiamo ai consigli di amministrazione dove si forma una volontà collegiale e quindi in quel modo cerchiamo di dare un contributo per formare una certa volontà. Mi riferisco ad esempio all'attività che svolgiamo nei passaggi generazionali. L'imprenditore che ha fondato l'azienda si trova poi a passare la responsabilità dei propri figli. In questo caso anche qui si forma un certo tipo di situazione nella quale il nostro contributo è quello appunto di mediare tra quelle che erano le concezioni del fondatore dell'azienda con quelle di coloro che succede nella conduzione della stessa. Mi riferisco ad esempio all'attività che svolgiamo con il fisco, nel momento in cui facciamo i concordati, le riconciliazioni. Quindi diciamo pure che l'attività di mediazione fa parte appunto del nostro DNA. Un organismo necessario quindi dati i tempi faraginosi e i costi elevatissimi dei procedimenti civili del nostro sistema giudiziario, il tentativo di mediazione che vuole essere risolutivo ha infatti una durata massima stabilita per legge di quattro mesi e dei costi imposti dal Ministero della Giustizia e quindi aderenti alla missione conciliatrice dell'Istituto. La mediazione inoltre è totalmente gratuita per i soggetti meno abbienti. La mediazione è qualcosa di nuovo che comunque sta prendendo piede e quando una persona, un'impresa prova la mediazione, vede quali sono i benefici in termini di tempi che sono estremamente ridotti, tant'è che per legge non possono superare i quattro mesi, ma anche in termini di costi che sono estremamente contenuti, nel momento in cui hanno una nuova esigenza di risolvere una controversia, tornano a utilizzare questo nuovo strumento. I benefici per i cittadini, i commercialisti in tutta Italia come stanno prendendo questo ruolo che si avvicina molto all'istituzionale? Sì, beh, guardate, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti già da subito ha creduto in questa nuova opportunità, in questo nuovo strumento per la risoluzione delle controversie, tant'è che ha costituito una fondazione ADR Commercialisti che fa un po' capo a tutte le iniziative locali, quindi mi fa molto piacere che anche l'Ordine dei Commercialisti di Macerata ha sfruttato questa opportunità, per cui è entrato in questo circuito, in questa rete dei commercialisti usufruendo ovviamente di tutte le attività che stiamo portando avanti e sicuramente anche qui ci saranno tante mediazioni risolte positivamente dai nostri colleghi di Macerata.